E' iniziata questa mattina la lunga maratona delle convalide del 37 arresti in differite dei quattro in flagranza di reato nel corso della maxi retata con tanto di elicottero e unità cinofile alla parco del colle del Pionta. In manette a conclusione dell'operazione Duomo Vecchio sono infatti finiti 41 pusher, tutti stranieri, in larga parte nigeriani e richiedenti asilo. Il GIP del Tribunale di Arezzo Pier Giorgio Ponticelli da questa mattina si trova nella casa circondariale Aretina di San Benedetto per le udienze di convalida. Si sarà necessario andare avanti anche nel corso della notte e nella giornata di domani. Presente in carcere anche il PM Giulia Maggiore che ha firmato gli ordini di arresto di ferito. L'operazione portata avanti dagli agenti della squadra mobili assieme ai colleghi dello SCO ha assestato un duro colpo alle principali piazze dello spaccio Aretina e Campo di Marte e Parco del Pionta che in particolar modo era diventato un vero e proprio supermarket della droga a cielo aperto. Un'indagine durata oltre cinque mesi nel corso dei quali anche grazie agli agenti sotto copertura che si sono finti i clienti e alle telecamere piazzate dalla scientifica nel parco è stata documentata un'attività sistematica e professionale di spaccio. L'indagine nasce anche e soprattutto grazie alla collaborazione del servizio centrale operativo che ci ha fornito i cosiddetti agenti undercover, cioè agenti sotto copertura che hanno acquistato in modo simulato sostanza stupefacente proprio per ricostruire le dinamiche del parco e le condotte e le responsabilità di ogni singolo spacciatore. Circa 400 le cessioni documentate, una settantina gli acquirenti segnalati. Confidiamo di aver liberato questa zona importante di Arezzo Centrale da questo fenomeno di degrado e di spaccio e di aver riconsegnato questa importante e bella zona della città a tutta la cittadinanza.